Cateno De Luca qualche giorno fa ha fatto una lista di nomi, di persone che lo accompagneranno in questa sua esperienza e ha detto Salvatore Monte. Mi è stata chiesta una disponibilità. Sarà candidato ex consigliere comunale di Sciacca. Mi è stata chiesta una disponibilità e credo che in un progetto che tra le altre cose è civico, perché anche quello è un progetto assolutamente civico senza alcun partito, credo che si possa ragionare con un'esperienza che per carità è ancora all'alba, sta nascendo adesso, però è un'avventura. Cioè serve anche a mantenere, dico io, delle porte aperte per il futuro, perché questa città merita attenzione. Abbiamo dato possibilità a tutti. La nostra città ha sempre dato ampio margine a tutti coloro che da fuori sono venuti per chiedere voti e ottenerli. A un certo punto credo che nella vita bisogna fare qualche passetto avanti. De Luca non ha qualcosa in meno rispetto a tutti gli altri, diamogli un'opportunità. Ma lei è mai stato davvero sul punto di essere investito della candidatura nel centrodestra? C'è stato assolutamente. Un momento in cui questa cosa poteva essere realizzabile, poi per tutta una serie di ragioni chiaramente non si è materializzata nel vero senso della parola, però diciamo che quello che poi è accaduto dopo comunque mi rassicurava, perché il nome che uscì successivamente era come se fosse il mio, che era quello di Fabrizio. Io oggi credo che non bisogna assolutamente dimenticare quello che a noi personalmente è successo. Il 14 novembre dello scorso anno, nel corso di una commission a Bazzara, succede quello che tutti sanno, cioè il fatto che a noi non viene legittimato il ruolo all'interno di quel partito. Cioè noi veniamo accusati da una parte della dirigenza di Forza Italia di essere una lista civica, che i nostri comunicati stampa erano a firma di una lista civica, che noi non avevamo nessun ruolo all'interno del partito. Mi scusi, ma se Fabrizio Di Paolo alla fine ingoia questo rospo, perché voi invece non lo volete fare? A un certo punto subentrano anche degli stati umorali veri. Fabrizio ha grande credito nei confronti del centrodestra, perché è quel centrodestra che più volte ha approfittato del suo essere veramente un galantuomo, questo va detto assolutamente ai 420, ma quello che noi abbiamo subito oggettivamente ha portato a scelte diverse, un disimpegno e la possibilità di candidarsi da un'altra parte. Questo, sia chiaro, lo dico a quei manigoldi che da due giorni si divertono a bagnare il biscotto all'interno di quello che è tutto il panorama, noi non siamo litigati, noi non siamo traditori. Io dissi, se Forza Italia è dentro la coalizione con la candidatura di Fabrizio, a me sta benissimo, perché io sarei stato il braccio armato di Fabrizio in campagna elettorale, quello è chiaro. Però non si sarebbe candidato. Però non mi sarei comunque candidato, però sarei stato lì, al fianco del mio amico Fabrizio. Ignazio invece disse, nel momento in cui c'è Forza Italia anche dentro la coalizione con te candidato sindaco, io sono completamente a disposizione. Quindi questa leggenda metropolitana che era tutto scritto e tutto già predetto non è assolutamente vera. Io non ho perso nessun amico, per me è un punto di riferimento, era e rimane un punto di riferimento, oltre che un amico, perché poi io non le posso raccontare, lo faccio qui davanti a lei, i nostri rapporti semifamiliari che abbiamo. Ma lei, mentre Di Paola tratta col centrodestra per candidarsi, lei presenta Cateno De Luca a Sciacca, ed è sembrato una specie di affronto, per se ci venziamo, che De Luca si candida contro il centrodestra. Ma De Luca si candida contro il centrodestra, però attenzione, io ho rappresentato e rappresento fino a oggi lo scioglimento, chiamosi virtuale, del Consiglio Comunale, una lista civica che non ha assolutamente nessun riferimento partitico. Le ricordo anche che nel corso di questi anni è vero che noi abbiamo affrontato elezioni nazionali, regionali, abbiamo votato per l'onorevole Giussi Bartolozzi, compagna dell'onorevole Armao, abbiamo votato per Gabriella Giammanco, abbiamo votato per Giuseppe Milazzo, tutti i soggetti che si sono fatti i cavoli loro e che di Sciacca non sanno neanche la destinazione dov'è. Ecco, ma lei voterà per Ignazio Bivona a queste elezioni, no? Io ho detto e lo ribadisco che ho un candidato al Consiglio Comunale che è un amico, che fa parte di quel cerchio magico famosissimo. Quindi di conseguenza è ovvio che il mio voto e il mio indirizzo va verso un amico, ma questo non preclude assolutamente altro genere di amicizie, ma sarebbe da stupidi, sinceramente. Sono d'accordo, però capisce anche che poi le elezioni, se l'amico poi fa un'altra scelta, magari ci rimane male, ha ragione un po' Fabrizio De Paolo. Ma comunque io non credo che sia rancoroso nei nostri confronti, perché non credo che sia una persona che conosce il rancore, perché ancora... Se l'avesse conosciuto magari non avrebbe fatto di nuovo l'accordo con Forza Italia, con Missichea. Io lo dico sempre, l'ho detto fino all'altro ieri. Lui ha una grande dote che io non ho, che è la capacità di assorbire, proprio perché lui, a differenza probabilmente di tutti noi, le ha subite tante nella sua vita politica. E oggi lui rimane nel centrodestra ed ha un credito enorme rispetto a quanti altri. Ma non sarà che Di Paolo è costretto a rimanere nel centrodestra, perché se il centrodestra non c'era Forza Italia, l'avete fatta cooptare voi. Poi Di Paolo fa un passo indietro... A un certo punto credo che Fabrizio abbia puntato alla unità del centrodestra, no? Quindi quando si beve l'ultimo calice amaro? Al momento in cui si tenta di riunire il centrodestra, visto che è considerato che le altre forze civiche erano rimaste fuori. Grazie a tutti.